Un minuto, un minuto e mezzo, McGee, parte di Nicolau, ubriacato, arresto! Eccola qua, la numero uno dei playoff! E forse anche il sigillo, verso gara sette! Me ne vado, Tyrus McGee! No, eccola, eccola, eccola che arriva! Mamma mia! Spettacolo, che giocata! Vede Wattic, no, no, qui devi fare qualcosa di importante! Qui non si porta a casa il posto, è di Wattic! Tutto porta a casa, camionato, struttura, tutta la tribuna! No, perché come si è liberato di Nicolau, brutto eh! La rapidità d'esecuzione, poi la volta con la quale è andata su, e poi anche il contatto! Perché Wattic va su per impedirgli la schiacciata! Ora faccio una citazione dell'anno, è questa! Sì, sì, dell'anno, è l'anno! E questa è un'altra schiacciata che, altro che spinta è su! E questa è un'altra schiacciata che, altro che spinta è un'altra schiacciata!